Anche quest'anno la Camera di Commercio di Ascoli ha presentato la sua nuova pubblicazione di servizio alle imprese. L'opera si colloca in un quadro programmatorio che prevede, accanto a tante altre attività di sostegno all'economia locale, anche questa di offrire manuali immediatamente utilizzabili agli operatori economici del nostro territorio. In coincidenza con il suo quarto anno di mandato, la Giunta Camerale ha reso disponibile la quarta pubblicazione che segue quelle dedicate alla tutela del territorio, alla business plane e al controllo di gestione. Si completa così una vera e propria cassetta degli attrezzi e ad uso degli imprenditori che vogliono valorizzare e rafforzare le proprie aziende. Le imprese del territorio hanno delle eccellenze incredibili sotto tutti i punti di vista, produttivo in primo luogo, e non sviluppare dei piani di comunicazione integrati che mettono in sinergia queste eccellenze. Anche con altre imprese che sono oggi vissute come concorrenti è un punto di debolezza che mina anche la sopravvivenza stessa delle imprese. Oggi comunicare è molto più complesso di ieri perché esiste una moltiplicazione dei canali di vendita e dei canali di comunicazione e di media e quindi anche spendendo dei budget interessanti, significativi, si rischia di essere invisibili se non lo si fa con un approccio pianificatore. Che ruolo possono avere i mass media, i nuovi mass media? Parlo dei social network, della pubblicità via internet per questo tipo di comunicazione delle imprese. Sicuramente internet pone di fronte le aziende ad un tema, come adeguare gli stili comunicativi che fino a ieri erano soprattutto cartasci o talvolta anche televisivi ad un nuovo media. Ed è più difficile perché i nuovi media consentono anche ai clienti, ai concorrenti, ad opinion leader di intercettare questo messaggio e collaborare insieme per ristrutturare un nuovo messaggio. Quindi non si è padroni fino in fondo del messaggio che gravita su internet ma bisogna essere abili direttori di orchestra nel valorizzarlo integrandolo con anche coloro che sono i fruitori di questo messaggio. E quando una di queste occhi canadesi sta male cosa succede? Quello che non succede è nella nostra economia. Due occhi scendono e stanno con lei fino a quando non guarisce o non muore. E lo stormo inizia ad andare più lentamente per poter essere raggiunto. Non c'è una chiave che fa girare un motore e si riparte. Ma la crisi potrà essere superata se ci sono delle azioni che determinano dei risultati. A oggi azioni che determinano i risultati io non ne vedo. Un punto fondamentale che spesso viene completamente trascurato è il concetto di centralità dell'impresa. Se noi andiamo a studiare il bilancio dello Stato, qualcuno pensa che le pensioni, gli stipendi statali questi derivano dallo Stato ma derivano poi dalle imposte, dalle imposte che vengono pagate non solo ai dipendenti pubblici perché è una partita di giro ma da chi privatamente sviluppa reddito, ricchezza. Allora se non ci mettiamo nella condizione di far ripartire quelle attività, cioè di far creare reddito a chi lo deve creare, vi assicuro che è follia dire fra sei mesi, fra un anno, la luce, il fondo al tuo. Questo è un discorso da mani, ma non da persone serie che seriamente cercano di capire come stanno le cose. Ormai abbiamo verificato in maniera evidente che il nostro tessuto economico o è sorretto da piccole e medie imprese o c'è il rischio che poi qualcuno venga e vada via. Questo significa che dobbiamo rinforzare sempre più coloro che sono nel territorio, investono nel territorio e rimangono nel territorio. Di solito queste imprese, parlo delle piccole e delle medie, ma delle piccole soprattutto, hanno ottime capacità produttive, ad esempio se operanti nel settore manifatturiero, ma minore propensione a commercializzare e ancora minore propensione a comunicare. L'attività di comunicazione è vista come qualcosa di poco rilevante rispetto a quella produttiva. Invece dobbiamo far comprendere a queste imprese che la comunicazione ha oggi un'efficacia molto elevata e può essere realizzata utilizzando strumenti diversi, che non siano soltanto la pubblicità al quale si pensa, ma tutta la comunicazione non verbale, tutta la comunicazione verbale e poi quel mondo incredibilmente ampio che si sta aprendo che il web. Ci sono tanti casi di piccole imprese che hanno ottenuto risultati molto interessanti utilizzando il web. Credo che sia una prospettiva che va coltivata e al tempo stesso si aprono opportunità anche per nuove figure professionali e quindi anche da questo punto di vista la comunicazione può effettivamente offrire interessanti prospettive di sviluppo e di capacità lavorativa. Anche la partecipazione a fiere per farsi conoscere può rientrare nel contesto della comunicazione attiva? Sicuramente sì, il cambiamento però della partecipazione a fiere è stato piuttosto rilevante. Una volta si pensava di andare in fiera per vendere, cioè si portava il prodotto e si vendeva. Oggi sempre più l'internazionalizzazione, le fiere sono spesso legate all'internazionalizzazione, si fa non vendendo prodotti ma andando a sviluppare relazioni. Questo significa che la fiera diventa sì uno strumento di contatto, sempre meno di vendita, ma va proprio utilizzata per cercare di sviluppare un legame con quel paese. Si vende sempre di più all'estero se si conosce la cultura, le caratteristiche, il modo di ragionare di quel paese, altrimenti diventa molto difficile. L'idea che una volta c'era di andare con la valigetta, vendere e poi tornare indietro è un'idea fortemente superata da quello che sta accadendo. Come migliorare la comunicazione nelle piccole e medie imprese è il titolo della nuova pubblicazione che la Camera di Commercio ha realizzato insieme all'Università Politecnica delle Marche, un tema che rientra perfettamente nell'impegno di fornire indicazioni utili a rendere maggiormente le aziende competitive e le aziende del nostro territorio? Sì, è una sorta di manuale operativo, una sorta di piccolo bignami che può essere messo a disposizione dei piccoli e medi imprenditori per comunicare meglio la propria impresa, comunicare meglio i propri prodotti e perché no anche migliorare la propria comunicazione personale perché comunque sia per vendere bisogna sempre comunque farlo anche a livello di persona e il contatto personale è una cosa molto importante. Quindi piccoli consigli, piccoli accorgimenti, sono dei manuali operativi non esaustivi perché la materia è comunque molto vasta, molto interessante da tutti gli aspetti che consente in qualche modo di avere degli strumenti che possano aiutare l'imprenditore a vendere, a migliorare la comunicazione in generale. Una sorta di bignami, come diceva lei, che aiuta non solo a farsi conoscere maggiormente nel nostro territorio ma anche all'estero? Sì, sappiamo tutti che all'estero non c'è crisi. La crisi principalmente è risentita dall'Italia e in secondo luogo misura minore anche dall'Europa. All'estero si vende, si commercia, si costruisce, c'è dinamismo. Purtroppo l'Europa deve far conto sul fatto che probabilmente o non è capace di intercettare i cambiamenti del mercato oppure è troppo vecchia per farlo oppure in ogni caso deve darsi una mossa. Quindi per darsi una mossa l'unica spinta che io vedo è quella dei giovani, giovani e donne. Nel senso che oggi bisogna farsi da parte, fare largo al rinnovamento. I giovani hanno le antenne sul territorio, hanno le antenne sul mercato. Il mercato, quello che propone oggi non è più vero domani, cambia repentinamente, in fretta e la leva del mercato è veramente molto lunga perché la globalizzazione glielo permette. Quindi bisogna intercettare questi cambiamenti e chi può farlo se non i giovani. Quindi io sono assolutamente perché i giovani tirino fuori il coraggio, in altri casi si direbbe gli attributi. Perché comunque sia, sì, è vero che oggi gli istituti di credito fanno fatica a prestare denaro, che le condizioni al contorno sono tali per cui non c'è un grosso entusiasmo. Però anche negli anni 50, negli anni 60 non c'erano più o meno queste condizioni. Eppure l'Italia ce l'ha fatta e ce l'ha fatta grazie ai giovani, alle generazioni che sono uscite dopo la guerra. Ecco, oggi è una sorta di guerra non fisica, non con le macerie, ma di fatto dal punto di vista economico la stiamo subendo a tutti gli effetti. Quindi dobbiamo trovare il coraggio nei giovani di cambiare questo stato di cosa. I giovani amano molto il web. Quale canale di comunicazione per pubblicizzare le proprie aziende? A che livello potrebbe essere per far conoscere anche aziende più consolidate? Ad esempio parlo di mezzi di comunicazione come il web, ma anche i social media. secondo me questi sono strumenti, non dico già superati, ma non dico obsoleti e nemmeno superati. C'è già il futuro, no? E quindi io faccio fatica a stare dietro a questi strumenti. I giovani se ne servono come se fosse il pane quotidiano. Ecco, la cosa incredibile è che oggi a 25 anni si è già vecchi, nel senso che i 15 anni, i 16 anni hanno una tale innovazione a livello di comunicazione, di strumenti tipo web, internet, social network e così via, che è già vecchio quello che si proponeva l'altro ieri. Noi dal nostro canto abbiamo proposto questi libri non solo in versione cartacea, ma anche come app su Apple e da quest'anno anche su Android. E quindi cerchiamo di dare anche lì degli strumenti di facile fruizione per un mondo che è sempre più all'avanguardia su queste cose. Parlavamo di download, ci sono state più di 45.000 persone che hanno scaricato le precedenti pubblicazioni della Camera di Commercio di Ascoli. Sì, ci ha comunicato l'Apple ufficialmente che siamo al quinto posto fra le applicazioni più scaricate nel tema di economia e finanza di tutte le applicazioni Apple. Questo per quanto riguarda il libro sul business plan. L'altro, che è più giovane di un anno, e cioè quello sul controllo di gestione, ha 19.000 download ed è al sesto posto. In ogni caso comunque sono dei buoni risultati, degli ottimi risultati e speriamo di superarli, stracciarli con questo libro che è veramente di facile lettura.